Vedete quando si dice la CGL nazionale, in realtà la CGL nazionale è fatta di persone e in molti casi le cose funzionano, quando si telefona, quando si fanno delle cose, qualsiasi elemento è fatto da queste persone qui, dal loro lavoro, dalla loro forza. E io credo che questo sia un valore importante perché, insomma, la dico così, nessuno di noi fa e si impegna nel sindacato semplicemente perché pensa che sia un mestiere. Lo fa perché crediamo che sia utile per cambiare la situazione e questo vale, credo, per tutti. E penso allora che sia importante perché poi stiamo, dicendo così, facendo un bellissimo congresso, no? Abbiamo visto come parlano di noi, come sta funzionando. Ecco, queste cose funzionano quando ci sono persone che sanno lavorare assieme, che ci mettono la faccia, senza di loro tutto questo non ci sarebbe. Ringraziamo, naturalmente, anche quelli della comunicazione che adesso non possono essere qui perché altrimenti non funziona il tutto. E io credo davvero che questo sia un elemento forte, che dà l'idea che noi siamo una bella organizzazione. Perché abbiamo ricevuto il giorno del congresso una lettera molto importante e quindi lo vorrei formalmente, ufficialmente, anche ringraziare. Mi riferisco al Presidente della Repubblica, Mattarella, che con il suo messaggio e le sue belle parole ha riconfermato il valore della nostra Costituzione, il valore del lavoro e lo ringraziamo perché non è stato un saluto formale, ma ha messo i piedi nel piatto e ha indicato come sia necessario davvero rimettere al centro il lavoro, le persone e l'importanza del superamento della precarietà. Vorrei, anche in questo caso, poi entro nel merito, ringraziare anche tutti gli organi di informazione, la stampa, i giornali, le televisioni, i media. E questa, insisto, è una battaglia di tutti i cittadini e di tutte le persone. E dobbiamo fare diventare questa una battaglia che coinvolge le associazioni, che coinvolge il territorio, che coinvolge le persone, che coinvolge i comuni. Perché noi abbiamo bisogno di aumentare la spesa nella sanità, abbiamo bisogno di rimettere al centro la cura. E quando dico sanità, non intendo solo curare le persone quando sono ammalate. Non è più accettabile, che è successo anche in questi giorni. Si continua a morire sul lavoro come si moriva 50 anni fa e siamo di fronte a una vera e propria strage. Anche nei giorni scorsi, durante questo congresso, si continua a morire e sono morte le persone sul lavoro. E' stato quella di una frantumazione dei diritti, di una divisione del mondo del lavoro e di una concentrazione della ricchezza in mano a pochi che non ha precedenti. E da un certo punto di vista si sta cercando di capovolgere un punto fondamentale. E lo dico perché questo è uno dei punti che di nuovo anche ieri, nell'intervento che qui ha fatto il Presidente del Consiglio, in un qualche modo anche nel suo intervento, ha riaffermato questo principio generale. Voglio partire da lì perché qui io credo ci sia proprio un punto di fondo che va chiarito e per quello che ci riguarda ci indica anche un elemento di diversità molto profondo. La dico secca per così ci capiamo. La ricchezza, la ricchezza, la produce chi lavora. Qui c'è un punto di fondo perché nel momento che si nega questo elemento e si teorizza che la ricchezza la produce l'impresa o la ricchezza la produce la finanza e a quel punto diventiamo tutti dei consumatori e non ci sono più le lavoratrici e i lavoratori, in questo modo si sta negando un elemento di fondo. Dico perché la Presidente del Consiglio ieri ci ha ricordato che era il giorno dell'unità nazionale. L'unità è un valore molto importante. Io la ringrazio naturalmente di aver richiamato questo valore così importante. ma vorrei che lei se ne ricordasse del valore dell'unità non solo il 17 di marzo, se ne ricordasse anche il 18, il 19, il 20, il 21, il 22, il 23 a partire da un punto che io vedo una contraddizione. Come si fa a votare il 16 in Consiglio dei Ministri l'autonomia differenziata e poi venire a raccontarci a noi il 17 che lei è per l'unità nazionale? Noi siamo per l'unità nazionale, non so se è chiaro. E noi lo siamo anche il 18, il 19, il 20, il 21 e lo diciamo con molta chiarezza. Noi non siamo d'accordo e contrasteremo con tutte le strade possibili un'idea di riduzione, di messa in discussione della nostra Costituzione. Com'è? La partecipazione, la ricostruzione di una fiducia non avviene per editto con un documento votato da un congresso nazionale, ma avviene se in ogni luogo, in ogni territorio, in ogni luogo di lavoro, in ogni Camera del lavoro noi siamo in grado di offrire la possibilità alle persone di partecipare, di esserci e se questo partecipare e esserci è finalizzato a intervenire, a migliorare la loro condizione di vita e di lavoro e a dare gli strumenti per potersi muovere in questa direzione. Io credo che questo sia un punto particolarmente importante e lo dico, questa volta bevo, consentitemi una battuta, tanto ormai qualcuno ha detto che resistenza, volete sapere qual è la verità? che io non l'avevo vista che lì sotto c'era una bottiglia. Il mondo è molto più semplice, diciamo così, di quello che no, i miti, ma che miti? Non ho visto che c'era l'acqua. Curizio Landini è il segretario generale della CGL. Grazie. 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 Dunque adesso, quell'ora che non ho parlato prima, me l'ero tenuta. No, io vi ringrazio di cuore. Ah, è vero. C'è ragione. Cosa aggiungere? Grazie. Grazie.